Minnesota 1953. Fresco di diploma e avido di nuove esperienze, Pierce Duncan decide di trascorrere un'estate on the road. E' giovane, idealista, ha letto Hemingway e Chandler, vuole diventare scrittore. La sua unica arma, per il momento, è un block notice. Ben presto, tuttavia, il vagabondaggio di Duncan assume connotazioni sempre più sinistre. Coinvolto in modo imprevedibile in una serie di casi criminali, dalla Georgia al Texas, dal Nevada alla California, Pierce maturerà poco a poco una diversa visione del suo paese. Si destreggerà tra delitti, dark lady, giocatori d'azzardo e galeotti e, infine, approderà San Francisco, dove si misurerà con il caso decisivo e incontrerà l'uomo che cambierà per sempre la sua vita, un detective privato.